Il 27 ottobre ricorre la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo che è stata proclamata nel 2005 dalla conferenza generale dell'UNESCO. Il patrimonio audiovisivo è un valore importante nella storia delle paoline. Qual è la sua ricchezza? Le paoline hanno iniziato la loro attività un secolo fa e questo ha inciso molto sia sulla nostra formazione e preparazione sia nelle opere cinematografiche che musicali in Italia perché lavorando anche capillarmente non solo nelle librerie ha inciso questo anche sulla vita di fede di tante persone. L'apostolato del cinema infatti l'abbiamo iniziato nel 55 e la prima agenzia è stata aperta naturalmente a Roma. Però già nel 56 le due delle nostre sorelle che non avevamo ancora la comunità qui ad Arezzo ma a Siena venivano settimanalmente qui ad Arezzo e distribuivano le pellicole che i parroci prenotavano. Intanto però avevano anche l'incarico di cercare qui ad Arezzo una sistemazione e così ecco che ci troviamo qui in via Garibaldi 114 con la libreria e la casa. Questa attività ha fatto sì che ci conoscessero sì tante persone però quello che è importante per noi in questa produzione è stata anche la selezione che le sorelle facevano a Roma nel ricercare quei film che potevano aiutare con valori umani di fede a crescere e nello stesso tempo però c'è stata anche un'evoluzione. Dopo il film ecco che sono uscite le videocassette, hanno iniziato i DVD e perciò nell'80 anche noi abbiamo dovuto incominciare a riprendere questi settori ma con altri strumenti. Tutto questo comporta anche per le librerie e per le sorelle un impegno però quello che è importante è stata la crescita culturale per la nostra gente. Ancora oggi però proprio perché si crede nella possibilità e anche crediamo che questi strumenti sono validi e fanno del bene ecco che le librerie paoline proseguono su questa strada nell'aggiornamento continuo. Ecco nella storia del patrimonio audiovisivo delle paoline non c'è solo il cinema. Non ci siamo fermate al cinema perché quello è passato poi ecco che iniziamo nel 65 con l'editoria musicale questo ha impegnato molto anche le sorelle che erano incaricate e quest'anno proprio ricorre 65 anni perché l'inizio è stato nel 53 è proprio stato il primo maestro Don Giacomo Alberione che incitava sempre a saper usare i nuovi mezzi per l'evangelizzazione per arrivare alla gente per comunicare Gesù Cristo. Ecco allora che questo interrogativo lui l'aveva forte in lui stesso però l'ha comunicato sempre anche a tutte noi e così le sorelle si sono impegnate a dare vita all'attività discografica. Eravamo anche nel 64 abbiamo iniziato con i filmini catechistici forse qualcuno si ricorderà quando erano muti si doveva proiettare questi filmini. Le sorelle hanno cercato di fare dei dischi per poterli commentare. Passando poi da questa idea ecco che eravamo nel periodo del concilio e già c'era fermento anche giovanile in giro allora si è cercato di entrare anche con i dischi nella liturgia ecco che abbiamo iniziato con canti per i giovani. Certamente c'erano già autori di ispirazione cristiana ma anche persone qualificate che collaboravamo insieme proprio per portare avanti questa iniziativa quello che ha dato impulso maggiore è stato il teatro musicale di Forza Venite Gente che è la storia di San Francesco che ancora oggi va molto ed è stato non solo in Italia ma l'abbiamo tradotto anche per l'estero proprio perché rimane proprio un best seller dell'editoria. Il centro dischi decide poi di aprirsi anche alla collaborazione con dei professionisti per la catechesi e qui quello che fa c'è Giosi Cento, i suoi canti, Marcello Marocchi e tanti altri. Nell'87 entrano i compact disc e perciò bisogna ripartire a entrare anche lì a vedere come valorizzarli per la catechesi valorizzarli per l'annuncio del Vangelo. Nel 94 prendiamo il nome definitivo di Paoline Editoriale Audiovisivi e qui è interessante perché abbiamo capito che bisogna saper collaborare ecco che entrano i movimenti Comunione e Liberazione, i movimenti dei Focolarini il rinnovamento dello spirito e con loro si cercano catechisti e animatori in queste attività con loro si fanno anche opere insieme. Poi abbiamo iniziato a fare anche dischi di messa proprio come può essere quelli di Marco Frisina per su artisti anche internazionali come può essere Enrico Intra e Franco Cerri. Le sorelle incaricate in questo settore dovevano sempre avere le antenne libere per captare proprio quello che poteva essere utile per l'annuncio del Vangelo e non è un settore stabile come può essere altri ma è un fattore sempre in movimento e nell'ambito di questo ecco che arriviamo al web. Entrando lì, certo sono sorelle che sono preparate e abbiamo iniziato dopo la produzione discografica ad aprirci a questi canali. Negli anni 90 si è fatto il sito www.paoline.it con la possibilità sia dell'acquisto come pure elettronico che dei prodotti musicali e nel 2010 si è arrivati alla digitalizzazione di tutto l'archivio perciò chi entra nel nostro sito arriva a trovare tutto quello che le paoline hanno fatto in tutto l'arco di vita di questi cento e più anni. Certamente cambiano gli strumenti ma la missione è sempre quella di sempre quella di offrire contributi per la crescita umano e cristiano delle persone seguendo gli orientamenti pastorali che la Chiesa ci dà avendo sempre un'attenzione vigile, attenta ai cambiamenti e alla società di oggi per accompagnare il cammino dell'uomo a confermare la vocazione di parlare a tutti. Il fondatore ci diceva sempre andare a tutti, parlare a tutti ma con gli strumenti del momento, dell'oggi anche con la musica.